Questa sera si congela di freddo, mercoledì 25 novembre, 2.20 alle 22.24 Ci sono 5 gradi, stanotte ce n'erà meno un grado Sto facendo l'ultima consegna qui in Biagiotto e poi tutta a casa Finalmente da venerdì si potrà uscire comodamente Sempre con la mascherina, dalle 5 del mattino alle 22 di sera E speriamo che sto virus passi alla svelta Vi va con una buonanotte a tutti quanti, a domani